Accordo trovato tra Rete Ferroviaria Italiana e Comune di Fanno per la riqualificazione del sottopasso ciclo pedonale in Viale Cairoli e la realizzazione di quello pedonale in Via Nazario Sauro. Per quanto riguarda il collegamento che unisce Centro Storico e Zona Lido, i lavori che verranno ultimati per marzo 2024 prevedono un nuovo varco di accesso nel lato nord di un'ampiezza complessiva di 6 metri contro i 4 attuali. Gli interventi prevedono l'abbattimento delle barriere architettoniche, una nuova illuminazione, l'installazione dell'impianto di videosorveglianza e percorsi tattili per la fruizione delle persone povedenti. Il costo stimato è di circa 2,5 milioni di euro, di cui 2 milioni a carico di RFI con una partecipazione di 500 mila euro del Comune. Invece su Via Nazario Sauro verrà creato completamente un nuovo sottopasso pedonale grazie all'abbattimento dell'ex casello ferroviario che si collegherà alla passeggiata della Darsena Borghese sfociando sulla banchina del porto. La struttura avrà un'altezza di 2,5 metri, una larghezza che varia da 1,5 a 4,22 metri e una lunghezza di poco superiore ai 15 metri. Anche in questo caso sarà garantito l'accesso a persone ipovedenti e con difficoltà motorie e verranno previsti sia una nuova illuminazione che le telecamere. L'investimento sarà di 1 milione e 500 mila euro totalmente sostenuto da rete ferroviaria italiana e vedrà il completamento a dicembre 2024.